Nella splendida cornice dell'Happy Village di Camerota si è svolta la presentazione ufficiale del portale turistico In Camerota, visitabile all'indirizzo www.incamerota.it. La piattaforma nasce con lo scopo di mettere in rete tutte le bellezze, le strutture turistiche e i servizi di uno dei territori più suggestivi d'Italia. All'incontro, oltre al primo cittadino Mario Salvatore Scarpitta e all'amministrazione comunale, hanno preso parte il direttore dell'Agenzia del Turismo della Regione Campania, Luigi Raia, l'azienda Wonderlab di Salerno, la Webfarm che ha curato la creazione e la progettazione del portale, folta la partecipazione degli operatori del turismo. L'evento si è svolto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Un bellissimo incontro che si è appena concluso, dove c'è stato molto entusiasmo e abbiamo presentato appunto questo portale turistico che ha davvero incuriosito tantissimi, tantissime anche le telefonate di colleghi, di amici e di altre cittadine che sono molto interessate a questo portale e soprattutto al progetto delle tre perle che serve a qualificare appunto le case vacanze, ma non soltanto a qualificare le case vacanze, ma a renderle più sicure. Infatti le case vacanze che saranno presenti sul portale garantiranno un certificato di qualità e soprattutto sicurezza a chi prenota online. Quindi una bella giornata per Camerota, ringrazio coloro che hanno lavorato tantissimo per questo portale e avanti così. In Camerota è il frutto di un lavoro durato 12 mesi, è una mappatura completa dei punti di interesse, dei luoghi, dei servizi e tutto ciò che nasce da questi quattro paesi. Oggi quindi consegniamo alla cittadinanza una piattaforma all'avanguardia e la possibilità di usufruire gratuitamente dei servizi fondamentali per lo sviluppo turistico ed economico del nostro territorio. Una piattaforma turistica è uno strumento fondamentale per portare a compimento quello che è il nostro grande progetto turistico per Camerota. La piattaforma ha lo scopo di mettere in rete tutte le bellezze, le strutture turistiche e i servizi che Camerota offre.